Ecco il finale ragazzi, guardate i colori e non vi dico il profumino. Ragazzi eccomi qua, oggi preparo un pranzetto economico, semplice ma molto buono. Preparo uno spaghetto, olive nere e cappeli. Io non uso i comodoni freschi quando faccio lo spaghetto olive e cappeli perché mi piacciono di più i datterini in barattolo. Sono molto più cremosi, secondo me e molto più buoni. Poi siete liberi di usare anche i comodoni freschi, io uso questi. Iniziamo con la procedura. Faccio soffriggere l'aglio senza farlo bruciare, mi raccomando. Qua, a questo punto, aggiungo i datterini. Qua, a questo punto, aggiungo i datterini. Scopro e aspetto la cottura. Ci siamo quasi, eh? I datterini sono quasi pronti. Guardate che cremina. Calo la pasta. Ci siamo quasi, eh? La pasta è quasi pronta. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, eh? La pasta è pronta. Accomando la pasta è pronta. Aggiungo. Faccio un naso fuori. Un altro poca. dicevo è un pranzo economico semplice e buono economico perché con meno di 10 euro mangiano tre persone anche quattro ore ecco il finale ragazzi guardate i colori e non vi dico il profumino è adesso assaggiamo e vi facciamo sapere grazie a tutti che mi seguite che seguire la mia cucina che mi iscrivete un sacco di messaggi bellissimi mando un bacio e buon appetito a tutti